Amici, la frecciata di Andrea Smuller, ex ballerino del programma, il talent di Maria De Filippi, ecco cosa ha detto. Frecciata d'amici, il programma di Maria De Filippi. A lanciare la provocazione contro il talent di Canale 5 e un ex concorrente e ballerino professionista. Andrea Smuller. Il motivo riguarda l'eliminazione di alcuni ballerini nel corso delle puntate. Dei sei allievi hanno dovuto abbandonare il programma, quattro sono ballerini, meigeria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. E proprio sull'argomento si è pronunciato il compagno di Veronica Peparinin che su Instagram ha risposto ad una domanda sul talent. Chi ti piace di amici della categoria ballo ha chiesto un utente. Ed ecco la stoccata di Muller, quelli che sono usciti. Cristina Scuccia pronta per l'isola, niente bichini, resterò in pantaloncini, non mi sento ancora pronta. Giorgia Soleri e la Vulvodinia, ho scoperto un nuovo farmaco, finalmente posso mettere i pantaloni stretti. Con questa risposta, Andreas avrebbe fatto capire di non essere molto d'accordo con le decisioni prese dai tre nuovi giudici e dalla direzione prese ultimamente dalla trasmissione. Inoltre, essendo lui stesso un ballerino di hip-hop, è ancora più comprensibile il fatto che non abbia pienamente apprezzato vedere gli esponenti della categoria venire fatti fuori uno dietro l'altro. Sembra che l'eliminazione dei ballerini siano state molto contestate anche dal pubblico. Infatti, molti ritengono inspiegabile l'uscita di ragazzi considerati tra i papabili vincitori del programma. Grazie. 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 Grazie.